E quindi chi siamo? Fin dal 1958 la GNLD ha dato a centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo la possibilità di godere di uno stile di vita migliore. Più salute, una pelle più giovanile, una carica di energia e un corpo in forma perfetta. 1-1-1-3-5-7-6-0 in sovraimpressione. Quindi cosa rimane a dire? Buon divertimento e ci vediamo dopo la pubblicità. Ciao a tutti da Max Nascente. Sono a presentare il nuovo programma dedicato alla medicina, allo sport, al benessere e alla moda. Caneta Wellness TV, ogni martedì alle ore 13 e un quarto dopo il telegiornale sul Mondo Channel. Buona visione. Grazie a tutti.